Sono Roberto Copparoni, segretario regionale dei Verdi della Sardegna. Ci occupiamo di ambiente, perché l'ambiente è il bene più prezioso e importante che abbiamo. L'ambiente è lavoro, l'ambiente è salute, l'ambiente è futuro. L'ambiente è un'opportunità per tutti. Per questo il 16 febbraio vi chiediamo di sostenere i Verdi, lista IDV Verdi, per Francesco Pigliolo, presidente. Grazie.